Si presentano in retta dove passa facile Dark Mary nei confronti di Drenpita e allo steccato Dallacara. Dark Mary che allunga su Drenpita con Dallacara allo steccato. Dark Mary facilissima la sua fermazione sul numero 14 Drenpita Dallacara. Gianluca Fresu scappa via a Dark Mary, un po' come Beautiful Star, stessa distanza, stesso cliché. Si, bene oggi dai, rispetto all'ultima volta a millimetri che era passata in rettura, oggi è passato un po' in anticipo perché l'ha bene in azione, quindi l'ho lasciata a scorrere e ha risposto bene bene anche in rettura. Insomma, la distanza questa è proprio la sua, mille e due lui è una velocista. Si, si, ha un po' questa stanna, poi Mary nel 5 a 6 a 6 a 6, si, si. Bella vittoria, tripletta per te, ti dobbiamo fare i complimenti. Grazie, grazie. Non accadeva un po'? Eh, un bel po'. Beh, è una bella soddisfazione. Si, si, senz'altro. Io ti faccio i complimenti tre volte, tre volte che sei provato a fuggire via, farlo sempre se porta bene. Lo sempre riesce, però io. Complimenti. Massimo Marciali, San Catere, tre volte come Gianluca, ti intervistiamo. D'Archimeri, una cavalla che era attesa su questa distanza, ha dimostrato un po' quello che l'ho fatto vedere. Si, certo, lei ha vinto a mille a Sassari, ha vinto facile, oggi ha controllato anche, addirittura ha vinto molto, molto bene. Sì, senza problemi, ti chiedo una cosa, a questo punto può allungare secondo te, perché sarà anche obbligata. Allora, abbiamo allungato, non è che ci siamo andati tanto. Mille e cinque a Sassari? Mille e cinque a Sassari, magari sì, addirittura è corte, è un po' più pista, più piccola. Però lei è un po'... Da sparo. È in rischio sulla distanza, comunque va bene. Va bene così per adesso, poi vediamo. Salvatore Siss, il proprietario di Dark Mary, una figlia di Spirit of Desert e Sultarocca, Sultarocca, sorella di Ossidiana Bella. Una linea che si ripete, lei però, quella sulla distanza, un po' tutta la linea, questa invece è velocista. Speriamo che faccia, che riaggiungiamo qualche metro in più, dai, si spera. Oggi si è comportata bene, speriamo in avanti, grazie all'allenatore che lavora e tutto, devo ringraziare a loro, qualche soddisfazione sta arrivando. Sì, secondo la vittoria stagionale è una grande soddisfazione. Certo, comunque con i numeri che ci sono di tutti i metodossangue, a vincere due volte non è semplice. Sì, infatti, sono partiti quest'anno i cento di inglese, più o meno, quindi emergere tra cento non è semplice. Speriamo qualche altra cosa. Ci sono altri fratelli, l'ultima domanda sulla razza, gli anni a venire? L'anno prossimo, adesso non mi ricordo se il figlio di Sultarocca, perché l'allevata è mio cugino. Quindi complimenti a tuo cugino. Sì, esattamente, devo ringraziare anche lui a Giuseppe Sisto. Ok, complimenti ancora. Grazie, grazie.